Per agevolare le famiglie, evitando file ed attese, l'amministrazione comunale ha attivato apposita piattaforma software in cloud per la gestione dei servizi scolastici, mensa scolastica, concessione di buoni libro e fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole dell'obbligo. Gli interessati possono procedere all'iscrizione online con la piattaforma fornita da Telemoney, dalla home page del sito istituzionale alla sezione rimborso spese per acquisto libri di testo anno scolastico 2018-2019. Le domande online potranno essere presentate fino al 14 gennaio 2019. La procedura è molto semplice, ma in caso di difficoltà è possibile contattare il call center della ditta Astro 0825 188 6628 329 3470 302 329 3470 893 da lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle 15 alle 19. Nel caso in cui l'utente sia sprovvisto di computer o smartphone potrà recarsi agli uffici comunali delle politiche scolastiche per ricevere supporto dal personale formato dalla ditta nei giorni di apertura degli uffici.